ciao a tutti oggi è arrivata la nuova serie SELECT della panini 2022 della wwe questo è il set base completo quindi dalle carte dalla 1 alla 100 ci sono altri due set base che sono più rari dalla 101 alla 200 e dalla 201 alla 300 che si trovano solo negli hoppy box io non sbusterò niente ho comprato la serie completa dalla 1 alla 100 e quindi oggi andiamo a vedere le card come sono fatte e le immagini se sono belle o meno insomma se ne vale la pena o meno ecco questo allora come si presenta una card della SELECT per le numerate qui quando c'è una numerata il numero compare qui come le altre hanno una scritta ovviamente in inglese nel retro della card il brand dell'atleta in questione qui partiamo con un atleta di NXT adesso cercherò di andare anche abbastanza veloce questo è Lex Kay Lee Ray che come al solito non so pronunciare ok qui iniziamo con le carte interessanti subito una Lex Bliss nella versione demoniaca secondo me è una card molto bella questa poi abbiamo Ansur le immagini sono belle perché sono un po in rilievo quindi hanno quel tocco di eleganza che le separa dalle card normali queste sono card metallizzate come si può vedere adesso io li ho portate tutti in bustine e quindi stabilito insomma il formato delle card e la qualità eccelsa andiamo avanti le immagini come quella di Eddie Guerrero io mi sono innamorato di questa card e quando ho visto questa card ho comprato il set base perché non potevo fare diverso questa qui è veramente bellissima secondo me poi è sempre soggettivo secondo dei gusti qui Seth Rollins alcuni atleti del passato alcuni The Miz uno dei miei preferiti per cui anche questa card mi sembra molto bella Jeyuzo questa non è rookie card Miko Satomura però sono comunque card che io consiglio qualitativamente il livello è elevato e anche graficamente esteticamente le immagini sono belle cioè l'atleta è in primo piano si vede bene questo Brown Breaker rookie card quindi ci sono delle card anche rookie che secondo me sono da avere poi comunque la prima collezione select quindi io penso quest'anno non dico di comprare tutti i set base ma comunque avvicinarmi e almeno per quelle più importanti come prism e select garantirmi quante più card possibili in questo caso i set base poi le parallele le compro se le trovo a parte quelle che mi piacciono di più ci sono immagini spettacolari come questa di Montes Ford trovo una qualità migliore rispetto ad altri set adesso questa di Mick Foley non è bellissimo ma comunque sono di qualità devo dire che ho trovato forse più belli i set paralleli quindi dalla 101 alla 300 ma come immaginate i costi sono altissimi perché già solo questo set base tra spedizione e dogana viene sui 100 dollari cioè in realtà poi dopo a seconda di quanto lo trovate su ebay magari riuscite anche a trovare un'offerta vantaggiosa qui Undertaker quindi ho potuto comprare solo questo poiché anche solo il secondo sub set che si chiama premier level mi pare costa 150 dollari solo quello quindi dalla 101 alla 200 e ho dovuto desistere in fondo al set base vi mostrerò tre chicche due del terzo set due card del terzo set e una card autografata intanto procediamo io trovo veramente fatte bene questa card Triple H nella sua posa più tradizionale e trovo che quando l'atleta è rappresentata su De Gindermal magari no ma quando l'atleta è rappresentato qui ad esempio King Woods bellissima questa card di impatto bella non mi piacciono quelle come in questo caso tagliate ma chiaramente non tutte possono essere perfette probabilmente con l'entrata con la tire come questa sono le mie preferite qui Rikishi ci sono anche quelli del passato che apprezzo come Dusty Rhodes Rikishi mi fa molto piacere che siano inseriti in queste card anche perché comunque un roster da 100 rischiava di avere diversi nomi secondari invece riempiendo un po con atleti del passato la qualità rimane elevata questa bellissima card di Stone Cold quindi come vedete ci sono tante card che vale la pena questa di Roman Reigns forse mentre dal superman punch poteva essere presa in un momento leggermente meglio leggermente migliore con quando mentre sferrava il pugno più che nel momento del caricamento ma questa è un'altra rookie card solo Sikoa questa un'altra di quelle card importanti per il futuro un'altra rookie card un'altra rookie card Joe Gacy altra rookie card quindi qualche rookie card c'è ovviamente se ne sono più in altri set come NXT perché NXT la cucina di talenti nuovi per cui è chiaro che molte rookie card sono tutte lì ma anche i set principali come questo ne contengono molto anche questa di Cora Jade con lo skate niente non vorrei ripetermi troppe volte ma sicuramente vale la pena qui un Dolph Ziggler che assomiglia molto a Shawn Michael in quella posa Hulk Hogan quindi quando iniziano a mettersi card storiche come di atleti come Hulk Hogan o così importanti a me mi invoglia molto come collezione anche questa di John Cena molto bella un primo piano immagini in movimento anche le immagini in movimento come in questo caso possono essere molto belle se prese nel momento giusto a differenza di quella di Roman Reigns di prima quella di Cena è sicuramente più meritevole blair davenport homos la mia prista ecco questa poteva essere forse migliore ma in generale qualitativamente qui le immagini sbagliano di poco insomma sono fatte con criterio fatte bene Jason Waller Umberto Bailey adesso prendiamo e scorriamo che facciamo prima Jordan Devlin Rick Pugs Lashley Pete Dunne adesso si chiama Boots Brad Pitt Menard Sasha Banks una delle mie preferite se non la mia preferite in assoluto non è un'immagine che in assoluto mi fa gridare di stupore ma è comunque decente molte altre serie ne ho trovati di meglio come nella prism quando si è fatti i capelli con le mesh verdine è molto migliore come immagine a quella però anche Rhonda Rouse è tutta vestita in abiti borghesi diciamo in jeans così non è proprio rappresentativa dell'attare katana a chance questa è un'altra delle mie preferite da Van Damme come atleta e non come card perché anche lì si poteva far meglio Randy Orton questa almeno è in una posa tipica di una sua signature move Bruno Sanmartino card molto importante Von Wagen un'altra rookie card Jesse Jane un'altra rookie card un'altra rookie card ce ne sono diverse effettivamente Yoshirai Michael Cole questa è l'ultima del set base che comunque io giudico totalmente all'altezza e qui ci inoltriamo nelle tre chicche a parte allora questa di John Cena The Champions Year io non potevo non prenderla ho bei ricordi di quel periodo e questa mi piace particolarmente probabilmente è il periodo che dopo tanti anni di odio verso John Cena me l'ha fatto tornare ad amare dopo i primissimi anni in cui era rapper praticamente come gimmick dopo c'è stato il regno del terrore nel vero senso della parola perché era una roba insostenibile e questo è il periodo invece che mi ha riportato ad apprezzare John Cena e poi Hulk Hogan questa nella sua posa tipica dopo il match per me questa rappresenta un momento storico per cui non potevo non prenderla ovviamente queste due card le ho prese a parte e pagandone anche abbastanza ma mi piacevano e allora per due card ho fatto uno sgarro ovviamente il mio abbastanza comunque penso 3 4 5 euro l'una al massimo quindi non comunque una cifra troppo esagerata per un paio di card ci può stare di più diventa troppo e per finire una card autografata panini sempre della select è quella di katana chance che è la prima dopo il cambio di nome perché prima si chiamava Casey Catanzaro e allora ne avevo già una card autografata però ho voluto prenderne anche una panini con nome nuovo e anche questa è un sticker quindi non sulla carta ma su un adesivo attaccato dopo la firma autentica garantita dalla panini però diciamo che hanno più valore le card firmate sopra ma tra prism e side comunque sono poche se ce ne sono di card firmate direttamente quindi non potevo diciamo essere troppo esigente ho dovuto accontentarmi non mi piacciono le card orizzontali devo dire la verità ma siccome volevo una sua mi piace perché c'è l'immagine sia ferma diciamo sia ritratto che in movimento e la firma è più o meno simile non è cambiata rispetto al passato il cuore a volte fatto meglio a volte fatto peggio però diciamo che accettabile non è numerata come si può vedere e quindi il valore non è altissimo però siccome una carta qui tenevo l'ho presa anche per anche solo per vedere come sono le card autografate panini rispetto a quelle tops ovviamente questa è una card metallizzata cromata non è una card di quelle in carta normali per cui diciamo un po più di qualità rispetto alle altre e con questo è tutto vi do appuntamento al prossimi arrivi di card che siano panini che siano tops o che siano di altre marche o di altri sport un saluto a tutti